mercoledì 5 febbraio cielo coperto con possibili piogge di debole entità valori termici in ripresa oscillanti fra i 6 e i 10 gradi mare mosso giovedì 6 febbraio pioggia alternata a schiarite e nebbia in serata temperature in ulteriore innalzamento siamo fra i 7 e gli 11 gradi mare da poco mosso a mosso venerdì 7 febbraio nebbia e cielo coperto anche oggi piove nella seconda parte della giornata minima in diminuzione ma sempre sopra lo zero mare mosso la marea di mercoledì 5 febbraio è sostenuta la massima all'1 e 50 90 centimetri la minima alle 8 e 20 35 centimetri